Schianto frontale tra due auto ed un camion lungo la strada del Torrino, all'altezza del bivio per lo scopetone. Erano infatti circa le 13 quando i mezzi si sono scontrati ed il camion è rimasto in bilico sulla scarpata. Sul posto sono così intervenute due ambulanze, un'auto medica del 118, la polizia stradale e quella municipale. A corsa anche una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto le due persone dalle lamiere del camion. I sanitari hanno anche allertato l'elisoccorso Pegaso, poi rientrato visto le condizioni dei due conducenti. Due le persone rimaste ferite nello schianto. Si tratta di una donna di 33 anni residente ad Anghiari che era alla guida dell'auto ed un 53enne di Sesto Fiorentino conducente del camion. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo.